Ciao a tutti, mi unisco ai ringraziamenti per chi lavora sempre instancabile per il movimento che sono i militanti, come sempre. Questo è il mio primo congresso nazionale da segretario provinciale della Martesana, non nego di essere emozionato, cercherò comunque di stare nei tre minuti previsti, così non vi porto via tanto tempo. In questo congresso andiamo ad eleggere il segretario nazionale e anche se un candidato unico non è una formalità. Noi abbiamo un grandissimo segretario federale che si chiama Matteo Salvini. Grazie alla sua linea politica e alla sua capacità comunicativa ha portato la Lega là dove non era mai arrivata prima e questo tutti lo sappiamo. Serve però che la Lega Nord si strutturi, si organizzi, lavori in stretto contatto affinché il valore elettorale che ci sta dando Matteo Salvini si trasformi in azioni concrete per il bene del territorio e dei cittadini. Questo è importante, dobbiamo lavorare e strutturarci. In tal senso il lavoro che sino ad oggi ha svolto Paolo Grimoldi come segretario, come commissario è lodevole. Conosco Paolo da tantissimo, da quando entrambi eravamo giovani padani, capite? Molto tempo fa. Mi ricordo benissimo la sua regola, la regola delle tre C che per me è rimasta sempre nel cuore, che appunto diceva che per un militante della Lega servono tre C, cuore, cervello e coraggio. Per me oggi questa regola vale più che mai. Per il bene del Movimento mi aspetto che tutti portino avanti il percorso che già ha iniziato Paolo e che quindi vada ampliato. Certamente avrà l'appoggio della mia provincia, la Martesana. Come segretario provinciale della Martesana, sin dal mio insediamento e alle mie elezioni, ho lavorato per unire il Movimento, superare i campanilismi e le contraposizioni sterili che purtroppo spesso c'è all'interno del Movimento. La gente si aspetta da noi, oggi più che mai, un segno di maturità. Abbiamo il dovere morale di dare delle risposte e questo può cadere solo se siamo uniti, coerenti e allineati al nostro segretario federale Matteo Salvini. Nel mio piccolo sto lavorando un coordinamento tra Martesana e Ticino e Milano città, perché dobbiamo far crescere il Movimento nella capitale morale e produttiva, nel cuore pulsante del Paese. Perché per me Milano è e sarà sempre la capitale della padagna libera e indipendente. Grazie a tutti e buon lavoro.